Gli auguri a una grande struttura di volontariato. Sì, molto volentieri, perché io Cesvot la conosco anche per le altre mie attività, sempre nell'ambito del volontariato, in quanto Presidente dell'Avese Provinciale. Cesvot è una bella realtà, nella quale noi, sia come Avese, prendo l'occasione anche per spezzare una lancia nei confronti di questa mia grande associazione, e anche della pubblica assistenza, usiamo, possiamo usare, perché veramente dà la possibilità in tutti i sensi, e ne ho avuto l'occasione di poterla riprovare. Quindi tantissimi auguri e buona festa, visto che siamo in una festa del volontariato.